Il comune di Silvi Marina ha dato il via al progetto denominato Estate Silvi Dog, un'iniziativa pensata e rivolta ai tanti turisti in vacanza con il proprio amico a quattro zampe che potranno frequentare un tratto di spiaggia libera denominato Bau Beach. Oggi con molto orgoglio presentiamo la Bau Beach per la stagione 2019. A seguito di bando abbiamo assegnato alla unica beach, associazione cinofila che si è giudicata, la gestione della spiaggia Bau Beach qui a Silvi con molti più servizi rispetto agli anni precedenti. Siamo felici di questa giornata perché ci sarà la presentazione di questa nuova associazione che ha preso la gestione per questa stagione balneare, ma soprattutto siamo felici perché sarà seguita da una manifestazione attraverso iniziative giochi per i bambini proprio per presentare questa nuova spiaggia. Ricordiamo che a Silvi come comune è stata una delle prime amministrazioni attraverso allora l'amministrazione Gaetano Vallescura ad avere una Bau Beach. Naturalmente dobbiamo migliorare i servizi, la qualità e per quest'anno possiamo dire che finalmente diamo un impulso diverso negli ultimi anni a questa bellissima attività che favorisce sicuramente i proprietari dei cani ad avere dei luoghi idoni per far divertire i propri piccoli amici. La responsabile della gestione della spiaggia, Giussi Branella, presidente dell'associazione Unica Beach. La spiaggia è la riconferma della spiaggia precedente Bau Beach di Silvi che si trova appunto a Silville, zona Piomba, e sono 50 metri di fronte mare. L'affidamento è solo temporaneo per il mese di agosto. Sono stata contattata dall'amministrazione comunale perché io ho già avuto un'esperienza qui a Silvi nel 2016 che ha riscontrato molto successo, molto gradimento da parte dei turisti e quindi è stata richiesta la riproposizione dello stesso progetto e nonostante io sia impegnata anche nella spiaggia Giulianova ho accettato per il mese di agosto di prendermi in affidamento a questa spiaggia.